100 giorni per riportare all'antico splendore l'acquedotto vasariano ad Arezzo, prendono infatti avvio i lavori di restauro dell'acquedotto che dovrebbero concludersi entro la primavera. Ci sono due aspetti fondamentali, uno è quello estetico legato alla condizione degli intonaci della parte muraria che sostiene il vero e proprio acquedotto che è quello che corre in testa agli archi e questo verrà fatto attraverso un sistema di stonacatura mirata, quindi non sistemica ma legata alle condizioni dell'intonaco deteriorato e soprattutto alla sua storia, alla sua consistenza anche dal punto di vista del bene storico. Infatti è tutto sotto tutela della sovrintendenza che deciderà dove e come intervenire. Ricostituzione di intonaco e verniciatura finale o non verniciatura finale ancora non lo sappiamo. L'altro elemento fondamentale che poi è quello che dovrebbe impedire che si deteriori nuovamente l'intonaco dell'acquedotto è proprio la bonifica e la sistemazione del condotto idraulico che sta nella parte superiore che è quello che prende l'acqua a monte e la porta attraverso la galleria alla fontana di Piazza Grande. L'importante intervento di cui si è presa a carico la Fraternita dei Laici? L'intervento ha un costo di 350.000 euro e di proprietà della Fraternita. L'acquedotto in Enfeteusi ce l'ha il comune e quindi tra il comune e la Fraternita abbiamo ideato e portato avanti questo progetto. L'acquedotto racconta la storia della città in particolare la Fraternita dei Laici che è una struttura la più antica e autorevole istituzione pubblica della città di Arezzo si chiamava nei tempi passati Confraternita della Misericordia e portare l'acqua agli assetati è un'opera di misericordia corporale. Pertanto l'acqua che è arrivata in Piazza Grande nel 1602, fu festa grande quando arrivò, era un'opera di misericordia costruita e voluta dalla Fraternita dei Laici. Si chiama Acquedotto Vasariano perché è stato Giorgio Vasari che ha spinto Cosimo dei Medici a fare questa opera idraulica di primaria importanza che ha consentito lo sviluppo demografico, industriale e artigianale della città di Arezzo. Poi Vasari morì e l'acquedotto vasariano fu completato nel 1602 e quando nel 1602 arrivò l'acqua di Cognaia in Piazza Grande fu davvero festa grande.